It's me Mario, benvenuti ragazzi al mio canale, io sono Super Mario VJ e quest'oggi siamo tornati con The Sims 4 Proponiamo un piano a Layla Un piano diabolico Vuole rubare la statua di Venere, ok sentiamo Chiedi della sua giornata, condividi idee creative perchè il nostro FabiJ è molto creativo Bella Layla vai a fare la scema con FabiJ Ok sta facendo la scema Non piove, allora cosa ci sa Basta questa statua di Venere, basta Non la lascia in faccia, mi sa che il nostro FabiJ si è innamorato Si è innamorato Colpo tanto Mi gamba Montiamo una barzoletta sui politici C'è una valigia Pieno di soldi Facciamo molto riguardo Basta sti carro armati Che cazzo sono in piedi sti carro armati Avete rotto i coglioni in questi carro armati Ok FabiJ nel frigo Sta cucinando raga non ci credo Ora sa anche cucinare Layla sempre degli esercizi Sempre addominali Sai che si è fissata con questi addominali Ok ora va in bagno perchè ha sforzato troppo Favij impara a cucinare Ha giunto a livello 2 Mi sa che diventerà uno chef Altro che uno youtuber Vai Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo Layla è andata a dormire E Favij sta mangiando in piedi nel letto Perchè questa cosa Perchè sta mangiando lì e guarda Layla Perchè Perchè è andato a lavare il piatto in bagno Perchè questa cosa Perchè Ora sta giocando col tablet Dai vai gioca 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 Finchè Layla si sveglia Non giochiamo col tablet Non giochiamo col tablet Come penso tutti farete O con lo smartphone o col tablet Saremo tutti accesso Io sono uno di quelli Dai più veloce E più veloce Vediamo un po' cosa succede Cosa succede in Anneto Gurio Eccoci qua Siamo nel grande fratello Tu Gurio Tu Gurio Favij mangia in piedi Davanti a un frigorifero Sì Mi piace guardare il frigorifero Ok abbiamo finito Ecco qua Abbiamo ora due scrivanie Per così A me non possono andare a giocare Vediamo un po' Chi si sveglia per primo Facciamo una scommessa Scrivete nei commenti Chi si sveglia per primo Chi si sveglierà per primo Chi si sveglierà per primo Favij Quanto dorme col Ali Basta dormire Basta dormire Layla Quanto cazzo dormi Ok non è più notte Non è più notte Sono le 5 Sono le 5 Basta Svegliati Svegliati Che è primavera Si è messo a dormire anche Favij Bene così Bene così Si è messo a dormire Alle 7 di mattina Perché di notte Guarda la tv Bene Si mangia gli olgo Di prima mattina Così si stia in forma Informissima Layla Perché fa anche Gli addominali Gli addominali E che basta dormire Solo le 9 Svegliati Ripulisci Ripulisci quello schifo Che ormai c'è Puzza di scarpa Ha preso anche il piatto Di Layla Grande Favij Così si fa Così si fa Davvero gentiluomo E portiamo anche Favij A computer Vai su Socializza Vai su Socializza Chatta 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 Non lo avete a giocare Si è messo subito A giocare a FIFA Ma Favij Non gioca a FIFA Sta chattando Con qualche ragazza Che ha beccato Su internet Sta rimorchiando Lui rimorchia Così tramite La chat Di Badoo Scrive una barzelletta Ok Adesso va su Barzellette.it A scrivere La sua barzelletta Del giorno Tanto Layla Raggiunge Il livello 3 Di videogiochi E un'esperta Sta diventando Un'esperta Dei videogiochi Questa ragazza Gioca Una partita Gioca Sport Gioca Sim Per sempre Facciamo Cambiare Il gioco Disturbiamo Facciamo Giocare Ad Sim Per Sempre Sì Per sempre Sta andando a fuoco La casa Sai che è una pipa A giocare Altro che Sta giocando A scuola Oh 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 Grazie a tutti.